Un problema serio è il livello di educazione della nostra comunità. Non è la nostra vista, perché c'è un rapporto che c'è lì, che c'è un baiamento attraggio. Non conosce tutto il contenuto, il risultato del rapporto con l'Ossali, con l'Omisteria che è da Clau, come parte del paquete, questo paquete con l'Owanda, con la nostra firma, perché la nostra analisi arriva nella situazione di insegnanza educazione. Questa è una cosa importante, passare ora con la nostra attenzione con le insegnanze. E insegnanze lo chiede solamente da mangiare di alcune persone, o che è la nostra inclusione della comunità, per comprenderla e la comunità il suo apporto di educazione di noi, non solo di noi, non? E stanno qui bene, però stanno qui iniziando. Stanno qui per un altro motivo, l'educazione non arriva nel livello che ci siamo a desciare, per ogni città di preparare la nostra società di migliorare, automaticamente il suo controllo della società è migliore. E il città di cui ha i nostri diretti e le obbligazioni, la nostra comunità di miglior forma operando. Un città di miglior preparare non permette con un gruppo solo di gente della classe, lo che non lo vuole, non solo per la classe. E non è la nostra parte, non ha un'opinione propria. Lo che è, nel caso di Manezaki, stanno qui con la monota raia, lo che ci ha, è la nostra classe qui, la monota raia, 20 o 30 persone in diversi distritti del nostro paese, in Tailandia, e hanno un ruo di prensa in Manezaki. Passei alla costa, come ti ho detto, non solo per criticare, e l'arrivo a qui, nel prossimo 25 o 30 anni, non stupe per la guerra, ora non stiamo in fiesta, ora non stiamo in casa, arriva lo che sta passando, ora non stiamo subendo a un altro livello, e non necessariamente, e la cosa non stiamo in misura, con la tendenza che è ripena, e la dirigente del politico è ripena, perché non stiamo in fattito un partito politico, e va subito il terreno politico, per attender questo. Non stiamo per curare, e la comunità sta di tal forma preparare, con questa sua direzione, sua obligatione. La cosa è importante, arriva parte qui, e non stiamo in fattito, e non stiamo in fattito, di un paese di un'opinione. per noi. E questo con una gran candidata di nostra comunità, non conosce, le le non basico, di un derecho, di un'obligazione, è un problema, un hobby serio. Un hobby serio, e per la soia, una candidata di, il cittadano, che è politico, o è governante, per queste cose, che sta fuori di lei, e che sta normale. è governante, per regla, cosa non sta contro la lei, ma sta normale. E parte, sta peligrosissimo, e da quale ora, non sava che, del hobby paese, della nostra regione, che viene da purva, di tener gente, non, meno preparare possibile, da quale, può manipolare, la comunità, formalmente. e la nostra regione,